La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo al momento contro i gnoti ipotizzando il reato di disastro colposo. Al centro delle indagini la fuoriuscita di monossido di carbonio durante la recita natalizia nel giorno della Befana alla chiesa di Pergo nel comune di Cortona costata l'intossicazione a 27 persone. Tra queste solo quattro bambini restano in camera iperbarica a Firenze ma non sono in pericolo di vita. Tutti i pazienti ricoverati a Careggi, i quattro bambini al momento stanno bene, i sei bambini ricoverati in pediatria al San Donato sono in via di dimissione e tutti gli adulti che sono arrivati in pronto soccorso sono stati dimessi. I primi ad accusare i malori sono stati i bambini con nausea, cefalea, vertigini, disturbo dell'attenzione, disturbo della capacità di giudizio fortunatamente chi era presente deve essersi reso conto che c'era qualcosa che non andava perché la comparsa contemporaneamente di più persone con questi sintomi hanno fatto evitare il peggio. Il fatto accaduto nel pomeriggio di ieri nel piccolo borgo cortonese ha suscitato la presa di posizione di alcune famiglie che hanno scritto una lettera criticando il parroco Don Piero Sabatini, reo secondo loro di aver sminuito il problema durante le interviste rilasciate agli organi di stampa. Il parroco ha precisato invece di non essere scappato così come accusato nella lettera ma di essere andato nell'altra parrocchia di Sant'Angelo che amministra per prendere la documentazione sui lavori fatti all'impianto dopo un episodio analogo accaduto il 30 novembre del 2022 e consegnarla ai vigili del fuoco. A chiedere chiarezza è stato poi mattinata il sindaco di Cortona, Luciano Meoni. È stata colpita una comunità intera e l'amministrazione comunale di concerto con gli investigatori è pronta a fare tutti i passi necessari per tutelare le persone e le famiglie in ogni sede, ha detto.